amici di atti sport 24 benvenuti ad una nuova puntata di due metri la pallannuoto vista da vicino abbiamo il grande piacere di avere oggi insieme a noi l'attaccante della pallannuoto trieste michele mezzarobba ciao michele benvenuto grazie per aver accettato il nostro invito ciao buongiorno a tutti grazie a te di avermi invitato michele favolosa partenza della pallannuoto trieste nel campionato di serie a uno iniziamo dall'analizzare quella che è stata l'ultima uscita quale eredità vi ha lasciato la netta vittoria che avete ottenuto sabato contro la di nantes salerno allora ne venivamo da ovviamente una partita che rimarrà storica per l'impresa che abbiamo fatto eravamo un po tutti tutti gli occhi puntati addosso no adesso vediamo se il trieste rimane su questo su questo standard siamo riusciti a mantenere il nostro gioco abbiamo fatto noi la partita siamo partiti punto a punto dopo siamo riusciti a dilagare perciò abbiamo fatto sicuramente un'ottima un'ottima partita una buona prova dato che eravamo in trasferta in un campo difficile siamo molto contenti per questo certo possiamo dire che il momento chiave che vi ha consentito di indirizzare il match a vostro favore è stato paradossalmente quello che poteva trasformarsi in un episodio negativo e mi spiego quando è stato espulso bulio basic avete sicuramente perso un prezioso punto di riferimento della vostra fase difensiva e nel momento in cui si poteva pensare devono riorganizzarsi possono accusare il contraccolpo invece lì avete piazzato il break che può grazie al quale poi avete indirizzato l'incontro sono lontano dalla verità nell'affermare questo no no guarda ti do pienamente ragione abbiamo veramente avuto una una prova di carattere perché comunque perdere una pedina come buglia basici che in marcatura del centro e in queste partite ha dato anche tanto davanti perché marcasì il centro ma davanti fa anche gol è stato stato un brutto colpo però non ci siamo disuniti abbiamo continuato a giocare a nuotare forte dopo i frutti si sono si sono visti alla fine del match certo se quella contro la n brescia come l'hai definita tu è un'affermazione storica però poteva magari rappresentare un'impresa isolata la giornata di grazia va mettiamola così gli è riuscito tutto bene hanno firmato il colpaccio quella di sabato io provo a paragonarla al superamento di un esame di maturità quale peso specifico assume il blitz della vitale nel percorso che in questo inizio annata e soprattutto permettimi questa osservazione di crescita mentale della pallannuto trieste ma scusami non ho capito troppo bene allora il peso specifico che cosa significa nel vostro percorso di crescita questa questa vittoria quale valore assume dopo la prova no quella di salerno se brescia era poteva magari essere un'impresa l'impresa sbalcato salerno che cosa vuol dire per voi è un esame di maturità ecco esattamente vuol dire che siamo siamo su quella strada lì siamo sulla strada giusta vuol dire che stiamo lavorando bene in confronto agli anni scorsi che tante volte soprattutto in trasferta non non facciavamo punti non giocavamo bene quest'anno stiamo giocando bene sia in casa sia fuori perciò è una prova veramente di maturità e dobbiamo continuare assolutamente su questa strada qui provare a giocarcela con tutte e fare bene in casa per il nostro pubblico e per noi e fare bene soprattutto fuori certo quali sono gli aspetti del gioco su cui questo gruppo che sta viaggiando a ve le spiegate in questo inizio di torneo può ancora migliorare il suo rendimento che per lo ribadisco è già eccellente state giocando alla grande in questo inizio però per cercare di perfezionarsi la chiave sempre di perfezionarsi la chiave per crescere allora dov'è che potete ancora migliorare sicuramente dobbiamo migliorare nel fatto di non aver mai cali di concentrazione mentale cioè non mai c'è magari partiamo piano dopo dopo aumentiamo dopo rirallentiamo non è successo ad esempio nell'ultima partita però c'è successo ad esempio in casa con la roma perciò tenere sempre una concentrazione altissima sempre un ritmo super elevato secondo me dobbiamo migliorare in questo certo prossimo turno di campionato sabato vi attende la sfida con i campioni d'europa della pro recco quale emozioni ci regalerà il match della bianchi allora noi è inutile montarsi la testa abbiamo abbiamo fatto sì un'impresa con il brescia il recco è sempre il recco è una squadra blasonata campioni di livello internazionale noi sicuramente come abbiamo fatto col brescia come facciamo con tutte le altre squadre proveremo a imporre il nostro gioco proveremo a fare una partita degna del nome ce la metteremo tutta sicuramente e poi vediamo come va certo divertiamoci perché penso che la vostra forza principale sia quella di poter fare la vostra partita senza veramente la minima pressione sulle spalle in queste circostanze conquistare l'eventuale risultato positivo un pareggio contro i campioni d'europa in carica sarebbe il superamento della tesi di laurea per la vostra squadra o stiamo esagerando no no non stiamo esagerando quando quando hai detto il pareggio mi è venuto il sorriso perché è una cosa quasi cioè se se era impensabile di poter vincere col brescia veramente solo il pensiero di provare a fare un pareggio con il recco mi viene il sorriso sulle labbra però mai dire mai è noi ti ho detto dobbiamo provare a fare a fare la nostra partita divertirci soprattutto divertirci e dopo se riusciamo ad andare punto a punto con una squadra di di quel calibro lì si si deciderà negli ultimi minuti e mi permetto un'espressione calcistica se riuscite a giocare un match punto a punto si dice spesso è tanta roba è tanta roba sì è tanta roba è veramente tanta roba perché in tutti i match contro la pro recco penso che dal primo tempo vai subito 6 a 1 5 a 1 e il nostro obiettivo sarà proprio quello di tenere la partita fino all'ultimo e dopo vedere chi avrà la meglio chi sarà più forte certo ma già anche se penso che con estremo realismo non si parte mai sconfitti ma già magari uscire dall'acqua costringendo i campioni d'europa un match punto a punto sarebbe per voi un risultato lusinghiero esatto che era il nostro obiettivo nella partita col Brescia nella partita col Brescia ci siamo detti proviamo a metterli in difficoltà proviamo proviamo ad arrivare lì e dopo al terzo quarto tempo se saranno più forti li stringeremo la mano e saremo comunque contenti il nostro obiettivo è quello di non perdere già al primo tempo di non farci ci volare la partita addosso diciamo così no certo chiudiamo con un'ultima eh battuta sei eh hai partecipato al primo collegiale del nuovo ciclo del settebello allenato da Sandro Campagna ti chiedo quale stimolo ulteriore rappresenta nel tuo percorso di atleta la convocazione del ct per il progetto Italia allora sicuramente esser convocati lì mi rende molto orgoglioso perché è il massimo a cui puoi a cui puoi ambire poi il fatto che stanno facendo comunque un gruppo che il settebello è un gruppo di aggregati che devono dimostrare ancora questo questo mi dà la carica per impegnarmi sempre di più perché non 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 sono ancora pronto per essere in quella squadra lì di venti però se non è progetto tecnico che mi può far migliorare cioè posso allenarmi per poi un giorno chi lo sa magari magari entrare non lo so se sono saranno deciderlo certo vabbè ma a te in questa certamente a te in questo momento spetta dare il massimo poi il tuo massimo sarà valutato per vedere se se c'è l'opportunità di un salto però è in dubbio affermare possiamo dirlo con tranquillità che Michele Mezzarobba è comunque uno dei migliori talenti della nostra palla a noto ti ringrazio sono molto ti ringrazio molto per questa affermazione ce ne sono veramente tanti non li conoscevo tutti perché adesso nel progetto tecnico no io non facevo le nazionali giovanili con tutti loro sono veramente tutti molto bravi tutti tutte persone veramente veramente molto forti perciò ci sono molti molti talenti in italia molto giovani anche va bene siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata ringrazio Michele Mezzarobba per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Michele grazie grazie mille a te grazie mille dell'invito ancora e buona giornata